Benvenuti alla terza conferenza di Young Doctors for Science 2. Questa sera siamo qui con Elena Magnanini e Simone Rebegoldi, dottori in matematica, che stanno frequentando l'ultimo anno della specialistica a Modena, che ci parleranno di questa misteriosa sequenza che è la trama dei numeri di Fibonacci. Vi ricordo solo un attimo che potete trovarci e fare domande anche a loro dopo la conferenza quando non ci avete capito niente perché la matematica è difficile. No, scherzo, loro la sapranno semplificare molto. Comunque se avete qualsiasi domanda ci trovate su tutti i social network, praticamente abbiamo anche un blog dove i ragazzi del Master di Giornalismo Scientifico di Trieste e di Padova scrivono qualche articolo divulgativo. Ringraziamo il Comune di Modena, l'Università di Modena e Reggio, il Piano Nazionale Lauree Scientifiche per averci dato il patrocinio e ringraziamo il Planetario per ospitarci, il Dipartimento di Scienze, Fisiche, Matematiche e Informatiche di Unimore per la collaborazione e anche l'Associazione Culturale JW Draper. Io ho parlato fin troppo, adesso vi lascio alla conferenza e quindi lascio la parola a Simona. Buona conferenza a tutti. Allora, buonasera a tutti. Stasera parleremo di una successione che probabilmente sarà nota a molti di voi, che è la successione appunto di Fibonacci. Facciamo un po' un gioco, vediamo cosa ti viene in mente quando si parla dei numeri di Fibonacci. Non so, c'è qualcuno in sala? Te per esempio? Cosa ti viene in mente? Beh, diciamo che i conigli sono una delle cose che spesso troviamo legate alla successione di Fibonacci. Per esempio potreste pensare alla spirale logaritmica, ecco che spesso torna, quando si ritorna, quando si parla dei numeri di Fibonacci. Diciamo qualcuno più esperto potrebbe anche pensare alla sezione aurea e quindi a un rapporto particolare tra grandezze che ritorna in varie sculture, ecco, diciamo, monumenti dell'epoca passata. E se qualcuno è un appassionato del codice da Vinci si ricorderà che c'è un intero paragrafo dedicato alla sezione aurea. Ma qual è questa successione di Fibonacci? Appunto molti di voi la conosceranno, è quella successione che inizia con 0 e 1 e che gode della proprietà che ogni numero si può scrivere come la somma dei due precedenti. Quindi vediamo qua i primi termini della successione, vedete 8 è la somma di 3, 5, 13 è la somma di 5, 8 e così via. Questa, proprio come la successione stessa, anche la storia dei numeri di Fibonacci è senza fine. Infatti diciamo che parte da Pitagori, in realtà i pitagorici non sapevano che cosa fosse la successione, però in qualche modo vedremo che c'è un numero di cui parlavano i pitagorici che si collega molto bene alla successione. Si passa poi per Fibonacci, Leonardo Fibonacci, detto anche Leonardo Pisano, che fu l'inventore della successione ma che non conosceva molte delle proprietà che poi sono state scoperte in seguito. Ed infine si arriva ai matematici francesi dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Beh, vedremo perché questa successione è tanto speciale. Innanzitutto diciamo cercando di scoprire un legame con un numero particolare che diciamo è molto legato a questa successione, che è appunto la sezione aurea. La sezione aurea è un concetto che appunto, come abbiamo detto, era già noto agli antichi greci e matematici greci. Due quantità A e B si dicono appunto in rapporto aureo se la quantità maggiore è medio-proporzionale tra la minore e la somma delle due. Questa definizione è più chiara se la vediamo in termini di segmenti. In particolare abbiamo che A più B, date le due quantità A e B, sta ad A come A sta a B. Per chi diciamo ha familiarità con le proporzioni, vediamo che proprio A è il medio-proporzionale. In termini di rapporti questo si può scrivere come A più B fratto A uguale ad A fratto B. Il rapporto tra due quantità in rapporto aureo viene appunto detto sezione aurea e si indica con la lettera Phi. Sull'origine, diciamo sulla scelta della lettera Phi, si possono fare alcune supposizioni. Si pensa che sia legato probabilmente al famoso scultore greco Phidia, autore della statua di Zeus, sopravvisore del partenone di Atene, in cui comparino più volte delle grandezze, delle altezze tra le colonne, per esempio, in rapporto aureo. Diciamo che scherzosamente qualcuno pensa che Phi venga dai numeri di Phi Bonacci, che quindi in realtà questi numeri siano appunto i numeri di Phi Bonacci. Insomma, questa è un po' una stupidata. Quando due grandezze sono in rapporto aureo, il rapporto da queste due grandezze ha sempre un valore ben preciso. Infatti, se sostituiamo la lettera Phi al rapporto A fratto B nella relazione che definisce un rapporto aureo, otteniamo la relazione di a destra, che è 1 più 1 fratto Phi uguale a Phi. Se adesso moltiplichiamo per Phi ambi i membri, otteniamo l'equazione algebrica di secondo grado che vedete appunto lì sopra, e per chi ha familiarità, immagino molti qua, diciamo di equazioni algebriche di secondo grado, otteniamo che Phi è uguale a 1 più radici di 5 fratto 2. Cioè è un numero che non si può esprimere come rapporto di interi, ma è un numero irrazionale, quindi un numero che ha infinite cifre decimali che non si ripetono in alcun modo. Ed è un numero particolare, innanzitutto se riscrivete la relazione con il Phi e portate l'1 da sinistra a destra, abbiamo che Phi è l'unico numero reale positivo il cui reciproco si scrive come Phi meno 1, vale a dire che il reciproco della sezione aurea ha la stessa parte decimale della stessa sezione aurea, ed è una proprietà che a cui soddisfa soltanto il numero Phi. Fino adesso abbiamo parlato di segmenti in rapporto aureo, ma non abbiamo ancora visto un esempio di due segmenti in questo rapporto. Possiamo provare a costruirne due, possiamo fare una costruzione che necessita soltanto di una riga e di un compasso, potete rifare a casa tranquillamente. Se prendete un quadrato AB e F, non leggevo, e considerate appunto il segmento che congiunge il punto medio del lato AF e il punto E, in questo modo, tracciando appunto una circonferenza di centro M e di raggio ME, e prolungando il lato AF, otteniamo una figura di questo tipo. A questo punto, innalzate la perpendicolare da D e appunto considerate il punto C di intersezione con il prolungamento del lato BE, e vedete che abbiamo costruito un rettangolo, è il rettangolo ADC-AB-CD. E questo rettangolo è un rettangolo particolare, perché possiamo vedere in modo molto semplice che la base e l'altezza stanno in rapporto aureo. Infatti, se per semplicità scegliamo come lato del quadrato il lato 1, vedete i due segmenti AM e MF, sono uguali appunto a un mezzo, e ora se applichiamo il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo che vedete con l'ipotenusa tratteggiata, scusate, vedete subito che applicandolo ME è uguale alla radice di 5 fratto 2, quindi quella linea tratteggiata è uguale alla radice di 5 fratto 2. E dunque, siccome ME è raggio di quell'arco di circonferenza e MD è anch'esso un raggio, anche MD si scriverà come radice di 5. Ma allora AD, che è appunto la somma di AM e di MD, sarà uguale a un mezzo più radice di 5 fratto 2, cioè a 1 più radice di 5 fratto 2, cioè il valore della sezione aurea. E a questo punto, se andate a fare il rapporto tra i lati del rettangolo grande, otteniamo che questo rapporto è proprio pari alla sezione fi. Cioè, questo rettangolo, appunto, ABCD, è un rettangolo aureo. Ogni rettangolo che ha la base e l'altezza del rapporto aureo si dice rettangolo aureo. Dunque, questo rettangolo soddisfa questa proprietà, ma non soltanto, se riprendiamo la figura, vedete che c'è un altro rettangolo, che è appunto ECFD. E questo rettangolo è ancora anch'esso un rettangolo aureo. Infatti, abbiamo detto che AD, appunto, vale fi e che il lato del quadrato è 1. Dunque, l'altezza, diciamo, la base del rettangolo che vedete iscritto è uguale alla differenza di fi e 1. E adesso, ricordando, come abbiamo detto prima, che fi è quel numero che soddisfa la proprietà di avere il reciproco uguale a fi meno 1, otteniamo che questo è 1 fratto fi, proprio perché fi gode di questa proprietà. Ma allora, se andate a fare il rapporto tra i lati del rettangolo, otteniamo di nuovo fi. E quindi, questo rettangolo iscritto è ancora un rettangolo aureo. Ora, possiamo ripetere questo procedimento, quello di scrivere un quadrato nel rettangolo aureo al rettangolino più piccolo, appunto, che abbiamo visto essere aureo. Quindi, se, vedete, abbiamo il rettangolo di lato 1 fratto fi, inscriviamo un quadrato di quel lato, di lato pari a 1 fratto fi, allora otteniamo che CH, cioè l'altezza del rettangolino ECGH, è uguale a 1 meno 1 fratto fi, e quindi facendo i conti viene fuori 1 fratto fi quadro. E dunque, se andate di nuovo a calcolare il rapporto tra altezza e base, abbiamo ancora la sezione aureo. Cioè, abbiamo iscritto un altro rettangolo aureo. Se procedete così indefinitamente, quindi scrivendo un quadrato di nuovo, ottenendo un altro rettangolo di lato 1 fratto fi al cubo, avete di nuovo un altro rettangolo aureo, e così via. Cioè, abbiamo ottenuto una successione di rettangoli che godono della stessa proprietà, iscritti uno dentro l'altro. Ma adesso c'è una piccola, diciamo, una piccola sorpresa in tutto questo. Se provate a tracciare questi quarti di cerchio, quindi dei quarti di cerchio iscritti dentro questi quadrati, nel seguente modo, un primo quarto di centro E e raggio EB, e di nuovo un secondo quarto di cerchio in questo modo. E proseguendo, iscrivendo dei quarti di cerchio, che cosa otteniamo? Una figura particolare, inaspettata, che è quella che viene detta spirale di Fibonacci-Lucas. Che cosa c'entra appunto Fibonacci o Lucas in questa spirale, lo scopriremo tra poco. Intanto, ci possiamo chiedere se, come si può dire, se il legame, se questa spirale, diciamo, sia apparsa per caso, oppure se non ci sia un qualche legame tra questa spirale e la sezione aurea. E, in effetti, si scopre che ogni volta che andiamo a considerare delle figure, che sono in qualche modo, che godono appunto, che hanno dei lati in rapporto aureo, dove compare c'è la sezione aurea, questa spirale compare di nuovo. Per esempio, abbiamo parlato di rettangoli, possiamo prendere un triangolo. Un triangolo aureo è un triangolo isoscile, che ha il lato e la base, appunto, il rapporto aureo, cioè con, tale che il rapporto è uguale a fi, al valore fi. Tutti i triangoli aurei godono della seguente proprietà. Se prendete l'angolo alla base del triangolo e calcolate il coseno di 2α, come il rapporto tra il cateto, vedete, del triangolo ABBH fratto la sua ipotenusa, e andate appunto a fare i conti, scoprite che, perché, diciamo, è un po' esperto di trigonometria, questo è il valore del coseno di un angolo pari a 72 gradi, cioè gli angoli alla base di questo triangolo aureo valgono 72, di conseguenza, 72 gradi, di conseguenza l'angolo a vertice varrà la metà, cioè 36, quindi tutti i triangoli di questo tipo hanno gli angoli disposti in questo modo. Come costruire un triangolo aureo? È ancora più semplice che, diciamo, per un rettangolo aureo. Prendete una circonferenza di centro aureo e raggio A, dal punto A tracciate un'altra circonferenza che ha raggio 1 fratto fi, e a questo punto congiungete i vertici OAB e ottenete un triangolo che ha lato 1 e base 1 fratto fi. Quindi se fate il rapporto tra lato e base, avete di nuovo appunto la sezione aurea. Appunto OAB è un triangolo aureo. Prima abbiamo iscritto dei rettangoli aurei uno dentro l'altro. Possiamo pensare di fare lo stesso con dei triangoli. Per esempio tracciate la bisettrice dell'angolo alla base. Se poniamo appunto con la lettera alfa il triangolo a 36 gradi, vedete che gli angoli in figura sono così disposti. Infatti, vedete, l'angolo alla base sarebbe 2 alla alfa diviso con la bisettrice, avete due angolini alfa e avete gli angoli poi disposti in questo modo. Osservate che il triangolo più piccolo, appunto il triangolo iscritto BDC, ha gli stessi angoli del triangolo più grande. Quindi diciamo per il primo criterio di similitudine tra triangoli, questi due triangoli sono simili. In effetti, intuitivamente, vedete che uno può essere visto come l'ingrandimento dell'altro. Cosa significa che sono simili? Che hanno i lati corrispondenti nello stesso rapporto. E dunque, se fate il rapporto tra il lato e la base di quel triangolo più piccolo, di nuovo ottenete la sezione aurea. Cioè ottenete che questo triangolo è ancora un triangolo aureo. Allora potete ripetere il procedimento indefinitamente, cioè riappiccare di nuovo, tracciare di nuovo la bisettrice dell'angolo alla base del nuovo triangolo e ottenere un nuovo triangolo aureo e ripetere questo procedimento per quante volte volete, diciamo, ottenendo vari triangoli aurei. Ora, come prima, possiamo pensare di tracciare dei quarti di cerchio. Per esempio, provate a tracciare questo quarto di cerchio, con centro in D e raggio AD. Vedete che appunto il cerchio va a intersecare B, perché il triangolo ABD è appunto isoscele. Se ripetete questo procedimento per ogni triangolo inscritto, e andate avanti, di nuovo riappare la spirale. Guarda un po' un caso molto strano. E del resto, se andate a prendere la figura che è proprio per definizione, non per definizione, ma che è quella più legata alla sezione aurea, scoprite che di nuovo riappare la spirale, la spirale in questione. Stiamo parlando del pentagono regolare, cioè il pentagono con tutti i lati uguali e tutti gli angoli uguali. Ci chiediamo in quale modo può ricomparire questa spirale. Diciamo così casualmente, nel pentagono è scritta una figura che è molti nota, il pentagramma regolare, che adesso vedremo tra poco, che era il simbolo della compagnia, come possiamo chiamarla, dei pitagorici, tra i quali era il paso di metaponto, che fu il primo ad imbattersi nei numeri reazionali, e in particolare nella sezione aurea. Quindi anche questo è un altro caso molto strano. Vedete, il pentagramma è la figura che compare lì, è quella figura che ottenete se tracciate tutte le diagonali dentro al pentagono. Che cosa scoprì appunto questo seguace della compagnia dei pitagorici? Che prendendo il rapporto tra la diagonale e il lato del pentagono, il rapporto tra le due grandezze non può essere espresso come una frazione di interi, e in particolare questo rapporto è proprio la sezione aurea. Vediamo, ok. Come dimostrare questo fatto? Prendete i due triangoli che vedete in figura, sono due triangoli che, diciamo, intuitivamente sono simili, perché sono, diciamo, uno l'ingrandimento dell'altro, ma comunque basta osservare che la diagonale del pentagono è sempre parallela al lato opposto, e quindi quelli sono due triangoli con lati tutti paralleli. Allora, abbiamo che i lati corrispondenti sono i rapporti, in particolare vedete AD, che è il lato del triangolo, in particolare la diagonale, fratto AE è uguale a BC fratto ABT. Da questa vedete, se osserviamo che appunto il lato BT è uguale alla diagonale intera BD-B-AE, e chiamando con D la diagonale e con A in lato, otteniamo questa relazione di fratto A uguale ad A fratto D-A. E a questo punto, se raccogliete un A al denominatore, appunto, esemplificando, otteniamo di nuovo questa relazione, ponendo X uguale a D fratto A, vedete abbiamo X uguale a 1 fratto X-1. A questo punto, se moltiplicate per X-1 entrambi i membri, abbiamo, riotteniamo un'equazione che abbiamo già visto all'inizio, dove al posto di X avevamo appunto, avevamo Phi, e la soluzione di questa equazione è proprio la sezione aurea, dove X è il rapporto tra la diagonale e il lato. Ma nel pentagono in realtà compare molte volte la sezione aurea, infatti una prima conseguenza del fatto che i diagonali e i lato stanno in rapporto aureo è che il triangolo ADC è un triangolo aureo, perché AD e DC appunto sono il diagonale e il lato del pentagono. Ci sono anche altri due triangoli parentati con la sezione aurea dentro il pentagono, che sono i cosiddetti gnomoni aurei, che non sono dei grossi gnomi d'oro, ma sono dei triangoli che sono imparentati con la sezione aurea per il fatto che il loro rapporto tra lato e base non è Phi, ma è 1 fratto Phi, quindi diciamo sono legati alla sezione aurea, ma in modo diverso. Se poi prendete il triangolo più piccolo, questo triangolo è simile a quello più grande che abbiamo visto prima, e quindi è ancora un triangolo aureo. Lo stesso si può provare per tutti gli altri triangoli che vedete qui in figura. E un'ultima osservazione, se guardate i triangoli, e si hanno tutti angoli pari a 72 gradi, dunque gli angoli del pentagono che vedete iscritto dentro al pentagono più grande sono tutti uguali a 108, cioè a 108 gradi, che sarebbe il complementare di 72 gradi. E dunque abbiamo di nuovo un pentagono che ha tutti gli angoli uguali e quindi di nuovo un pentagono regolare, e quindi come per il rettangolo e per il triangolo abbiamo iscritto un altro pentagono regolare dentro quello di partenza. Possiamo quindi di nuovo tracciare come prima le diagonali e riottenere di nuovo tanti triangoli aurei e ancora un nuovo pentagono regolare. Quindi di nuovo c'è questo schema che si ripete, che è quello di avere delle figure con una particolare proprietà, quello dei lati appunto in rapporto aureo, che si possono iscrivere uno dentro l'altro e sono appunto uno simili all'altro. E di nuovo col pentagono la spirale ricompare, perché se prendete il pentagono e ne iscrivete un altro in modo tale che ogni vertice del pentagono divida il lato del precedente secondo la sezione aurea, e ottenete un altro pentagono regolare. Se ripetete questo procedimento indefinitamente e poi congiungete i vertici, diciamo, dei corrispondenti, dei vari pentagoni con dei segmenti, vedete e ritenete altre cinque spirali che ricordano molto quella di Fibonacci che abbiamo visto. Ma fino adesso non abbiamo parlato di Fibonacci, della sua successione, diciamo. Come entra in gioco questa successione? Beh, riprendiamo la sezione aurea, il numero FI, e proviamo a moltiplicarlo varie volte per se stesso. Quindi partiamo da FI per FI, FI quadro, e diciamo che vediamo subito che da questa equazione si ottiene che, dall'equazione della sezione aurea, si ottiene che FI quadro è uguale a FI più 1. Quindi abbiamo la prima potenza subito trovata. Per FI al cubo di nuovo si ripete, si considera FI per FI quadro, e sostituendo, diciamo, con i vari calcoli, otteniamo 2 FI più 1. Continuiamo in questo modo, quindi anche con FI alla quarta sarà, diciamo, ci sono qui dei calcoli, forse anche un po' noiosi, FI alla sesta e così via. Non so se qualcuno vede che sono comparsi dei numeri non casuali, ma se guardate i numeri che moltiplicano FI, questi sono i primi termini della successione di Fibonacci. E se guardate anche i numeri che vengono sommati a vari 1 FI, 1 per FI, 2 per FI, sono anche essi i primi termini della successione, quindi in generale FI alla N è uguale a FN per FI più FN meno 1, dove FN e FN meno 1 sono, diciamo, l'ennesimo e l'N meno unesimo numero della successione, quindi un numero di Fibonacci e il suo precedente. Quindi di nuovo, vediamo un primo legame della sezione Ava con i numeri di Fibonacci. A questo punto ci possiamo chiedere perché la spirale di Fibonacci si chiama così. Beh, se la riprendete, vedete, la vediamo iscritta nei rettangoli, se chiamiamo con, diciamo, A0, B0, A1 e B1, i vari, base e altezza dei vari rettangoli iscritti uno dentro l'altro, vedete, A2 e B2, e se proviamo a calcolare ogni, diciamo, altezza di ogni rettangolo in funzione della base del primo rettangolo, di quello più grande, se provate a fare i conti, che anche qui sono un po' noiosi, diciamo, magari andiamo un po' avanti. Ecco, continuando così, non so se qualcuno inizia a vedere che c'è un 1, un 2, un 3, un 5, un 8, un 13, guardate bene, abbiamo sempre una frazione dove al numeratore c'è un numero per radici di 5 meno un altro numero. Se guardate i numeri che moltiplicano radici di 5, questi sono i primi termini della successione di Fibonacci. Sarà un caso? Non si sa. Ma anche i numeri che vengono sommati alla radice di 5 non sono totalmente slegati dalla successione di Fibonacci, perché questi sono i primi termini di un'altra successione, che è la successione di Lucas, che è imparentata con quella di Fibonacci perché gode della stessa proprietà della successione di Fibonacci, cioè ogni numero si scrive come la somma dei precedenti, dei due precedenti, solo che parte con due numeri diversi che sono 1 e 3. Dunque, diciamo, abbiamo trovato un legame tra la sezione Aurea e i numeri di Fibonacci e vediamo perché questa successione è così speciale passando la parola alla mia collega che si trova qua seduta. Allora, Dunque, un po' di storie intanto. Leonardo Fibonacci dal latino figlio di Bonacci è nato a Pisa poco dopo l'inizio della costruzione della torre. Era un figlio di un mercante e di conseguenza viaggiò molto e fece diverse scoperte durante questi suoi viaggi tra i quali, per esempio, la scoperta delle nove cifre indiane e del segno arabo. E queste scoperte sono state inserite all'interno di un famoso suo scritto che è Liber Abaci che vuol dire libro del calcolo e non libro dell'abaco. I numeri di Fibonacci appunto compaiono all'interno di questo libro e all'interno del quale ci sono anche diversi problemi legati proprio al calcolo e alle questioni pratiche che doveva gestire essendo comunque figlio di un mercante e quindi coinvolto nei vari traffici. I numeri di Fibonacci appaiono in questo libro come abbiamo riportato nell'animazione e diciamo che fra tutti i vari problemi che ha trattato quello che sicuramente l'ha reso più famoso è il problema dei conigli che introduce la successione di Fibonacci il cui risultato è appunto la successione di Fibonacci. Allora lo leggo testualmente dal libro un tale mise una coppia di conigli in un luogo completamente circondato da un muro per scoprire quante coppie di conigli discendessero da queste in un anno. Quindi è un problema di riproduzione di animali. Per natura le coppie di conigli generano ogni mese un'altra coppia e cominciano a procreare a partire dal secondo mese dalla nascita. Inoltre supponiamo questi conigli immortali quindi non avremo delle perdite diciamo. Allora al mese 0 è presente una coppia di conigli secondo me cioè al mese 1 è presente sempre quella medesima coppia perché i conigli erano piccoli e non erano ancora fertili. Vediamo cosa succede al mese 2 al mese 2 abbiamo ben due coppie di conigli questo perché la coppia del mese precedente era in grado di riprodursi e quindi ha prodotto una coppia di conigli cuccioli in più è presente lei stessa perché abbiamo detto che questi conigli sono immortali. Procediamo in questo modo e vi faccio notare i numeri che sono presenti sulla destra che sono il numero di coppie di conigli che ci ricordano proprio i primi termini della successione di Fibonacci e vi faccio anche notare che ad ogni mese diciamo è presente ad ogni mese il numero di conigli le coppie di conigli che sono in grado di procreare è pari al numero delle coppie presenti al mese precedente perché faccio questa osservazione si completa la successione anche trovando il numero 8 perché faccio questa successione perché è un altro modo per spiegare la relazione che abbiamo inserito all'interno del riquadro azzurro cioè il fatto che se fissiamo la nostra attenzione al mese N il numero di coppie di conigli presenti al mese N più 1 sarà uguale ad FN cioè i conigli presenti al mese prima perché abbiamo detto che sono immortali più FN meno 1 FN meno 1 saranno le coppie di cuccioli che si inseriscono dal mese successivo perché abbiamo detto che al mese N le coppie di conigli fertili sono proprio N meno 1 e quindi una sequenza di numeri che inizia con 2-1 e soddisfa questa proprietà per definizione è proprio la successione di Fibonacci allora geometricamente parlando come il numero FI anche i numeri di Fibonacci hanno delle importanti proprietà e soprattutto godono di una rappresentazione geometrica che è facile da realizzare ed è molto interessante allora cominciamo dal quadrato 1x1 che è diciamo sono già rappresentati e generiamo una successione di quadrati i cui lati sono numeri di Fibonacci successivi quindi costruiamo il quadrato 2 di lato 2 poi il quadrato di lato 3 poi quello di lato 5 questi sono numeri di Fibonacci successivi poi quello di lato 8 e poi quello di lato 13 e quindi questo procedimento si può ripetere indefinitamente e si possono costruire questi particolari quadrati allora questa rappresentazione permette di vedere bene una prima proprietà di questi numeri che come vedremo godono di moltissime proprietà sembrano quasi dei numeri magici perché comunque sommandoli e moltiplicandoli vedremo che si riottengono sempre dei numeri di Fibonacci e allora partiamo da esprimiamo l'area di ciascun rettangolo iscritto come la somma dei quadrati che lo compongono quindi partiamo da quelli diciamo circondati dal rettangolo rosso e abbiamo che 1 al quadrato più 1 al quadrato è uguale al rettangolo di base 2 altezza 1 quindi 2 per 1 procediamo in questo modo quindi 1 al quadrato più 1 al quadrato più 2 al quadrato stiamo sommando i quadratini vedete è uguale all'area del rettangolo di lati 2 e 3 quindi 2 per 3 procedo in questo modo quindi costruiamo stiamo cercando delle aree dei quadrati diciamo dei rettangoli sempre maggiori fino a trovare l'ultima diciamo l'ultima area del rettangolo più grande che si può esprimere in questo modo ora da questa proprietà siamo in grado di estrarre una legge noi in questo caso l'abbiamo visto attraverso questa costruzione attraverso questo esempio la risposta è sì in generale possiamo dire che la somma dei quadrati dei primi n numeri di Fibonacci sarà data da Fn per Fn più 1 infatti se osservate la somma dei quadrati fino a Fn per esempio guardiamo 13 è proprio uguale ad Fn per Fn più 1 infatti il numero successivo di Fibonacci al 13 è il 21 ok se per esempio volessimo calcolare la somma dei quadrati dei primi 30 numeri di Fibonacci dovremmo fare tutto questo diciamo questo calcolo e avendo questa formula avremmo diciamo in un attimo la risposta che ci serve sempre ammesso che conosciamo quanto vale F30 F31 cioè il trentesimo numero di Fibonacci e il trentunesimo ma di come calcolare questi numeri ne parleremo poi e allora dimostriamo un'altra seconda proprietà interessante facendo così costruiamo un quadrato di Fibonacci con un numero di spari di rettangoli di Fibonacci nel seguente modo allora con tre rettangoli andiamo a costruire il seguente diciamo quadrato di lato 3 poi con cinque rettangoli costruiamo il seguente quadrato di lato 8 e lo stiamo facendo con dei rettangoli di dei rettangoli di Fibonacci cioè dei rettangoli che hanno come due lati i due numeri di Fibonacci successivi quindi abbiamo appunto 1,2 2,3 3,5 5,8 come diciamo lati dei rettangoli stiamo costruendo appunto questi quadrati sfruttando un numero dispari di tali rettangoli e infine cosa possiamo osservare che l'area del quadrato è uguale alla somma delle aree dei vari rettangoli per esempio per il quadrato di lato 21 che cosa avremo? Avremo tutte queste somme i cui prodotti sono i vari lati dei rettangoli che però per come li abbiamo scelti coincidono con dei numeri di Fibonacci successivi e quindi possiamo di nuovo estrarre una proprietà di questi numeri la somma di un numero dispari di prodotti di numeri di Fibonacci perché dispari? perché abbiamo scelto appunto i rettangoli in numero dispari e questi prodotti i prodotti dei vari lati sono proprio i numeri di Fibonacci e di nuovo è il quadrato di un numero di Fibonacci quindi lo scriviamo come F2 alla n più 1 questo se il numero dei rettangoli con cui riempiamo i quadrati è dispari se invece avessimo costruito il nostro quadrato di Fibonacci utilizzando un numero pari di rettangoli avremmo concluso la formula riportata sotto che è analoga alla precedente però sottraiamo meno 1 dal membro di destra quindi quando n pari vale quella sotto allora sembra appunto che sommando e moltiplicando questi numeri si riottengano sempre in qualche modo dei numeri di Fibonacci quindi a questi numeri piace giocare in casa potremmo dire e in effetti questi numeri godono di moltissime proprietà per esempio sarebbe bello se si potesse avere vedete abbiamo scritto la somma dei primi n numeri di Fibonacci sarebbe bello se ci fosse un modo per calcolarla senza doversi fare la somma tutte le volte dei vari numeri quindi facciamo un esempio proviamo a sommare i primi 5 numeri da F1 a F5 che sono appunto 1, 1, 2, 3, 5 procedendo in questo modo allora noi li abbiamo sommati a sinistra in particolare sono presenti sulla prima abbiamo sommato a sinistra a coppie i primi 6 numeri della successione di Fibonacci e nella prima colonna di sinistra ci sono i numeri che ci interessano in particolare ci interessa la loro somma quindi cosa facciamo? nella parte di destra abbiamo ricavato portando al di là dell'uguale i numeri che ci interessavano quindi da F1 a F5 e poi abbiamo sommato osservando le semplificazioni del caso abbiamo trovato il risultato F7-F2 uguale ad F7-1 e ora questa di nuovo da questo esempio si può ricavare una formula che ha una valenza generale quindi se al posto di 5 ci mettiamo n numeri troveremo Fn più 2 meno 1 perché ricordiamo che l'1 corrisponde ad F2 che abbiamo trovato nella formula là sopra proprio come numero di Fibonacci e quindi la formula si può generalizzare e presenta la forma nel riquadro allora vediamo qualche altra proprietà dunque se vogliamo sommare i primi 30 termini della successione diciamo che abbiamo subito il risultato in base a quello che abbiamo visto certo la formula è comoda però noi non sappiamo quanto vale questo 32esimo numero e scopriremo più avanti come si risolve questo problema intanto ci possiamo porre questa domanda esiste una formula per calcolare il massimo comundivisore fra due numeri di Fibonacci allora ricordiamo che il massimo comundivisore e diciamo per determinare il massimo comundivisore vale il famoso algoritmo di Euclide quindi se il resto della divisione fra i due numeri è 0 il massimo comundivisore è M in caso contrario il massimo comundivisore fra N e M è uguale al massimo comundivisore fra M e R dove R è il resto e allora ci possiamo chiedere qual è il massimo comundivisore fra due numeri di Fibonacci consecutivi abbiamo fatto qualche esempio utilizzando l'algoritmo di Euclide vedete nel primo caso il massimo comundivisore è tra 34 e 21 applichiamo l'algoritmo di Euclide ricordando che 34 è uguale a 21 più 13 quindi 13 l'abbiamo riportato come resto e l'abbiamo applicato nuovamente il massimo comundivisore tra 21 e 13 è 1 perché 13 è un numero primo e 21 non contiene tra i suoi fattori il 13 abbiamo fatto anche altri diversi esempi quindi 34 e 21 sono primi fra loro 55 e 34 sono primi fra loro 89 e 55 sono primi fra loro e che cosa si può dedurre da questi tre esempi che presi due numeri di Fibonacci consecutivi questi sono primi tra loro cioè il massimo comundivisore tra Fn ed Fn meno 1 è uguale a 1 per n maggiore uguale di 1 ok vale inoltre anche quest'altra proprietà sempre sui massimi comundivisori cioè che il massimo comundivisore fra due numeri qualsiasi questa volta non stiamo guardando dei numeri successivi di Fibonacci Fn Fm è uguale al numero di Fibonacci però che ha apedice cioè corrispondente al massimo comundivisore fra n ed m e abbiamo guardato qualche esempio giusto per chiarire la faccenda quindi il massimo comundivisore tra F9 ed F6 è uguale al massimo comundivisore fra 34 e 8 perché 34 è F9 e F6 appunto è 8 applichiamo l'algoritmo di Euclide questo è uguale al massimo comundivisore fra 8 e 2 dove 2 è appunto il resto e questo è 2 2 è proprio F3 dove 3 vedete è il massimo comundivisore fra 9 e 6 che erano gli indici da cui eravamo partiti dei numeri di Fibonacci da cui eravamo partiti poi vediamone un altro il massimo comundivisore tra F12 e F8 questo andiamo a sostituire i corrispondenti numeri di Fibonacci è uguale al massimo comundivisore fra 144 e 21 applichiamo l'algoritmo di Euclide diciamo più volte fino a trovare che il massimo a ricondurci al massimo comundivisore fra 18 e 3 che è 3 ma 3 che cos'è? 3 F4 e 4 è proprio il massimo comundivisore fra 12 e 8 e analogamente anche per l'ultimo esempio quindi questa proprietà diciamo è molto carina perché si scopre che il massimo comundivisore fra due numeri di Fibonacci è ancora un numero di Fibonacci allora non solo conigli abbiamo visto che la successione di Fibonacci riproduce bene l'andamento demografico di una popolazione di conigli ma ci permette di risolvere anche molti altri problemi di conteggio proviamo a vedere un esempio allora consideriamo una tavola di lunghezza n uguale a 4 cioè formata da 4 celle come quella che abbiamo rappresentato la domanda è questa in quanti modi la possiamo ricoprire usando soltanto dei rettangoli e dei dei rettangoli e dei quadrati cioè mi spiego meglio allora questa è la prima possibilità cioè di affiancare 4 quadratini oppure abbiamo questa possibilità ovviamente conta l'ordine poi abbiamo quest'altra possibilità quindi un quadrato un rettangolo e di nuovo un quadratino abbiamo questa possibilità quindi un rettangolo un quadratino e un quadratino e infine abbiamo la configurazione con due rettangoli quindi che cosa abbiamo trovato? abbiamo trovato che se indichiamo con f piccolo con apedice 4 i modi possibili per riempire 4 celle in particolare sfruttando i numeri 1 e 2 che da noi sono rappresentati dal quadrato e dal rettangolo f4 cioè il numero di ricoprimenti possibile è 5 vediamo un po' più in generale abbiamo indicato per n uguale a 1 in questa tabella n uguale a 2 progressivamente per n uguale a 6 il numero di modi in cui si possono riempire delle tavole prima di 1 poi di 2 poi di 3 fino a 6 celle vi faccio osservare qua in basso che compaiono i primi numeri della successione di Fibonacci e quindi questo è veramente sorprendente quindi questo ci porta possiamo dire ad un'interpretazione combinatoria di questi numeri infine se per definizione poniamo f di meno 1 uguale a 0 e f di 0 uguale a 1 in generale che cosa è vera è vera quella relazione lì cioè che il riempimento di una di una tavola di n celle cioè il numero di riempimenti da chi c'è dato da l'n più unesimo numero di Fibonacci quindi in altre parole se io considero l'n più unesimo numero di Fibonacci mi dice in quanti modi io posso riempire la mia cella di generica lunghezza n allora con questa interpretazione possiamo dimostrare un'altra interessante proprietà legata ai numeri di Fibonacci allora vediamo se ci vogliamo sommare i numeri di Fibonacci di indice dispari quindi abbiamo visto l'esempio F1 più F3 oppure F1 più F3 più F5 oppure andiamo avanti con gli indici dispari quindi dopo ci aggiungiamo il 7 il 9 allora cosa scopriamo che tutte le somme sono dei numeri di Fibonacci di questi possiamo generalizzare possiamo trovare una proprietà sì allora questi sono in realtà uguali a F4 F6 F8 ed F10 e da qui possiamo ricavare una proprietà infatti se notate F4 è il numero di Fibonacci indicato dall'indice 4 che è 1 in più rispetto al 3 analogamente per gli altri quindi 6 è 1 in più rispetto al 5 che è il pedice della F dell'ultima F 10 è 1 in più rispetto al 9 quindi in generale la proprietà che possiamo esprimere è questa qua quella arriviamo fino alla cifra al pedice 2N più 1 che indica un generico numero dispari e la somma fino a quel punto sarà uguale ad F di 2N più 2 in effetti noi che cosa facciamo 2N più 2 è l'indice subito successivo a 2N più 1 che è quello che vi facevo notare nella slide precedente però in realtà questa è una nostra supposizione quindi si può provare a dimostrarla e per dimostrarla noi abbiamo sfruttato i ricoprimenti che sono quelli che abbiamo indicato proprio con la F piccolo ricordandoci che vale la relazione FN uguale ad FN più 1 perché ci ricordiamo che l'N più unesimo numero di Fibonacci cosa mi dice? Mi dice in quanti modi io posso riempire la mia tavola di lunghezza N allora teniamo presente questa vi faccio osservare che se spostiamo la proprietà sull'F piccolo terminiamo a 2N perché scaliamo di 1 e quindi alla fine dobbiamo dimostrare che è uguale ad F piccolo di 2N più 1 allora per dimostrare questa uguaglianza si può immaginare di contare tutti i ricoprimenti possibili di una tavoletta lunga 2N più 1 perché F di 2N più 1 è proprio questo sono il numero dei ricoprimenti possibili di una tavola lunga 2N più 1 allora per far vedere che in realtà è valida la somma a sinistra mi chiedo in quanti modi io posso riempirla e per rispondere a questa domanda fisso una condizione sull'ultimo quadrato quindi immagino di disporre di fissare il quadrato in ultima posizione poi di scalare la posizione del quadrato nel modo in cui nel modo che abbiamo rappresentato e di contare per fisso il quadrato quanti sono i riempimenti delle restanti celle allora se lo fisso in ultima posizione che è la posizione 2N più 1 per definizione tutti i modi possibili in cui io posso riempire le rimanenti 2N celle sono f piccolo di 2N poi se lo fisso in posizione 2N più 1 vi faccio osservare che se non lo metto nell'ultima posizione lo posso mettere solo come altro caso nella posizione 2N più 1 perché altrimenti ricadrei nel caso precedente quindi ho il rettangolo il mio quadratino in posizione 2N più 1 e mi chiedo in quanti modi posso riempire le rimanenti 2N meno 2 celle sono f di 2N meno 2 questo proprio per come abbiamo definito l'idea dei riempimenti di tutti i possibili riempimenti procedendo spostando fissando il quadrato nelle posizioni progressivamente fino alla prima si ottiene proprio la formula abbiamo proprio contato quanto vale il membro di destra attraverso questo trucchetto di conteggio cioè questa operazione di conteggio ok do solo una definizione preliminare e allora un ricoprimento si definisce spezzabile se alla cella N se si può decomporre in due sotto ricoprimenti in questo caso alla cella 3 è spezzabile perché posso decomporlo posso in quel punto decomporlo in due sotto ricoprimenti mentre invece la cella 4 come potete vedere dal tratteggio non è spezzabile perché i rettangoli non si possono dividere a metà sono rigidi sono fissi e quindi non li possiamo tagliare questo concetto ci tornerà utile per dimostrare una formula molto utile per i numeri di Fibonacci allora adesso ci ricolleghiamo un po' al percorso che abbiamo fatto prima il percorso sulla phi e abbiamo scelto di fargli disgiunti apparentemente in un primo momento per poi riprendere il legame insomma verso la fine allora la sezione aurea avevamo detto che era definita in questo modo che godeva della proprietà phi alla n quella scritta e quindi era in un qualche modo legata già ai numeri di Fibonacci e cerchiamo di capire qual è il legame proprio che lega la sezione aurea ai numeri di Fibonacci e in particolare anche perché comparivano quando andavamo a calcolare la lunghezza della spirale legata a phi allora riprendiamo la costruzione dei quadrati fatti all'inizio quindi abbiamo costruito dei quadrati in particolare i lati sono uguali ai numeri di Fibonacci successivi allora tracciamo i seguenti quarti di cerchio ok e otteniamo questa spirale l'abbiamo ottenuta anche prima una spirale simile è molto molto simile alla spirale di Fibonacci Lucas quella legata proprio alla sezione aurea sarà un caso ok ovviamente no allora guardiamo in figura in particolare vorrei invitarvi a osservare i rettangoli che abbiamo iscritto uno dentro l'altro quindi abbiamo il rettangolo proprio quello più grande poi quello sdraiato il rettangolo ADFE poi di nuovo in verticale poi di nuovo abbiamo un rettangolo sdraiato poi di nuovo in verticale poi di nuovo sdraiato sono iscritti in questo modo e allora andiamo abbiamo calcolato i rapporti dei lati di questi di questi rettangoli guardate allora nel primo caso 2 fratto 1 perché siamo nel caso diciamo più piccolo e allora nel primo caso ok 2 nel secondo caso 1,5 mi sto spostando dai rettangoli più piccoli andando a crescere poi 5 fratto 3 che è 1,6 ho esagerato e sono apparsi tutti fino a 21 fratto 13 che è 1,615 eccetera quindi osserviamo che c'è una sorta di assestamento di questi rapporti verso 1,6 qualcosa se procediamo a fare questo calcolo per numeri di timonacci sempre successivi e ovviamente facciamo rapporto rispetto al precedente cioè andiamo avanti però il rapporto lo facciamo sempre rispetto al numero precedente cosa osserviamo che abbiamo proprio sottolineato che effettivamente l'avvicinamento di cui parlavo è effettivo e ci si assesta proprio su questo numero che è circa 1,618 che è una buona approssimazione del valore della sezione aurea che è 1 più radice di 5 fratto 2 questa idea di avvicinamento matematica si esprime attraverso il limite quindi abbiamo scritto che il limite per n che tende a più infinito dell'n più unesimo numero di fibonacci fratto quello precedente è la sezione aurea ma questo ha il limite quindi c'è proprio questa idea di avvicinamento quindi che cosa possiamo dire cioè il fatto che ritorni la spirale che avevamo costruito prima a che cosa è dovuto è dovuto proprio al fatto che abbiamo costruito i rettangoli utilizzando dei lati che sono dei numeri di fibonacci successivi e che cosa succede ai numeri di fibonacci diciamo al crescere dei numeri di fibonacci se calcoliamo il rapporto quindi in questo caso il rapporto dei rettangoli che si avvicinano sempre di più alla sezione aurea quindi sono praticamente dei rettangoli aurei è per questo che abbiamo ritrovato la spirale molto simile a quella che era apparsa prima quindi c'è questo legame che è molto affascinante con la con la sezione aurea insomma quindi stiamo trovando un po' sempre più più legami tra un tra i numeri di fibonacci e la sezione aurea ma non è non è il l'unico legame e nemmeno il più straordinario allora siamo arrivati un po' al al culmine della della trattazione e allora ricordiamo che un numero di fibonacci è dato dalla somma dei due numeri precedenti ok quindi per esempio per trovare f di 118 io devo calcolare f di 117 sommarlo a f di 116 e così ho f di 118 ora il problema qual'è? che io non so così quanto vale f di 117 a f di 116 sarebbe molto comodo avere una formula utile per calcolare quanto valgono quanto vale l'ennesimo numero di fibonacci questa formula ci proviene appunto da da Binet e ha la seguente forma quindi 1 fratto radice di 5 moltiplicato per fi alla n meno meno 1 fratto fi tutto n ed è estremamente interessante perché oltre che collegare i numeri di fibonacci con proprio la sezione aurea che è fi e tra l'altro dà modo di calcolare l'ennesimo termine di fibonacci che è un numero comunque un numero intero sfruttando dei numeri irrazionali perché fi è un numero irrazionale quindi questo è veramente affascinante allora abbiamo provato a dimostrare il teorema in qualche slide allora possiamo verificare la formula ricordando che l'n più unesimo numero di fibonacci si può pensare proprio come il numero di modi possibile di ricoprire una cella di lunghezza n tramite dei rettangoli e dei quadrati ok quindi la famosa f piccolo quindi f n piccolo uguale ad f grande di n più 1 quindi in base a questa relazione riscriviamo la tesi del teorema in questo modo quindi f n piccolo cioè i ricoprimenti uguale all'n più unesimo numero di fibonacci quindi l'abbiamo riscritta usando n più 1 anziché n e f n piccolo è il numero di ricoprimenti per n celle dopodiché cosa facciamo prendiamo una sequenza infinita una tavola infinita immaginiamo di affiancare in modo indipendente dei rettangoli dei quadrati scegliendo ogni quadrato con probabilità 1 su fi e ogni rettangolo con probabilità 1 su fi quadro la somma delle probabilità dà effettivamente 1 perché se si fa il minimo si trova il minimo con un denominatore si trova sopra fi più 1 che è proprio uguale a fi quadro per quanto abbiamo detto nella parte precedente che è uguale a 1 ora vi faccio solo osservare che la probabilità che un riempimento inizi con una qualunque sequenza di quadrati e di rettangoli per esempio fino a 10 è 1 fratto fi alla 10 e quindi in generale 1 fratto fi alla n ok per esempio se n uguale a 4 vediamo la probabilità che un riempimento si possa spezzare alla cella n se n uguale a 4 e il riempimento si può spezzare alla cella n vuol dire che abbiamo abbiamo tutte queste possibilità come a livello di riempimenti cioè lo possiamo spezzare alla cella 4 e lo possiamo ricoprire in questi cinque modi diversi quindi ricordando che la probabilità di ciascuna di queste configurazioni abbiamo detto è sempre 1 fratto fi alla 4 possiamo concludere che la probabilità che il ricoprimento si possa spezzare alla cella 4 sarà 1 fratto fi alla quarta cioè la probabilità del primo ricoprimento oppure quindi più 1 fratto fi alla quarta probabilità del secondo eccetera eccetera questo per cinque volte quindi lo possiamo scrivere come 5 fratto fi alla quarta ma 5 che cos'era? era F4 cioè in sostanza il numero dei riempimenti possibili per 1 fratto fi alla quarta che è la probabilità di ciascuno di questi riempimenti finiti quindi la estraiamo in generale dicendo che qua la n è uguale ad Fn fratto fi alla n ed è la probabilità che il ricoprimento si possa spezzare alla cella n quindi se avessimo avuto un rettangolo non avremmo potuto spezzarlo ok qual è invece la probabilità che il ricoprimento non si possa spezzare in questo caso la cella 4 non lo possiamo spezzare e quindi come possiamo esprimere questa cosa? vuol dire che fino alla cella precedente si può spezzare e la cella successiva a un rettangolo questo concetto a livello probabilistico l'abbiamo scritto in questo modo come qn-1 che è la probabilità che si spezzi a n-1 per quello che abbiamo appena visto e quindi abbiamo messo una per la probabilità di avere un rettangolo che è 1 fratto fi quadro per come avevamo scelto le cose quindi siamo proprio in quella situazione lì in cui abbiamo un rettangolo non possiamo spezzare il ricoprimento e quindi abbiamo ottenuto la probabilità che cercavamo tutto questo uguale per la probabilità del complementare a 1-q alla n dove q alla n è la probabilità che si possa spezzare ok allora dalla relazione precedente che è 1-q alla n quella lì e che cosa troviamo? troviamo esplicitando q alla n la relazione che abbiamo circondato in rosso per n-1 che cosa si avrà quindi? si avrà che sarà uguale a 1-q di n-2 fratto fi quadro cioè si procede sempre a ritroso e si può andare a sostituire la relazione 2 quella con q n-1 dentro quella cerchiata dentro la relazione 1 e ottenendo abbiamo riportato i calcoli quello che insomma abbiamo scritto 1-1 fratto fi alla seconda per la sostituzione diciamo q n-1 e andando a sostituire in modo ricorsivo quindi adesso dentro a q n-2 che cosa ci andremo a mettere? ci andremo a mettere 1-q n-3 fratto fi alla seconda e quindi si prosegue per ricorrenza e si ottiene che q n cioè fino i primi n termini sono questi e questi in realtà sono i primi n termini di una somma del tipo scritto sotto e la somma scritta sotto rappresenta i primi n termini di una serie geometrica e la somma dei primi n termini è data dall'espressione 1-x alla n più 1 fratto 1-x quindi abbiamo creato una corrispondenza fra i primi n termini della serie geometrica che sono quelli che abbiamo indicato con gli x e quello che abbiamo trovato noi in particolare da noi la x è meno 1 fratto fi alla seconda e sfruttando la formula che abbiamo riportato sotto per sommarli questi q n e andando a sostituire al posto della x la nostra x che è meno 1 fratto fi alla seconda troviamo questa finalmente questa espressione per q n questa qua finale con la fi con la sezione aurea quindi concludiamo cosa possiamo dire che la probabilità che il ricoprimento si spezzi alla cella n la possiamo scrivere così è la nostra q n a questo punto di che cosa ci ricordiamo che q n è uguale ad f n fratto fi alla n vi ricordate i ricoprimenti erano con quattro celle uno fratto fi alla quarta più uno fratto fi alla quarta ciascuna volta sommavamo per ogni ricoprimento possibile quindi f n fratto fi alla n in generale e uguagliando le relazioni cioè ricavando f n dalla seconda uguaglianza si trova la tesi perché è uguale a fi alla n per q n ma q n è quello là per questo ci ritroviamo un fi alla n più uno e finalmente facendo i calcoli troviamo la tesi di questo teorema diciamo che la formula di Binecci dice anche che l'ennesimo numero di Fibonacci è il numero intero più vicino al numero fi alla n fratto radice di 5 quindi se siamo per sapere quanto vale un numero un po' in avanti nella successione ad esempio il numero 30 basta che ci calcoliamo fi alla 30 fratto radice di 5 questo perché otterremo il numero che stiamo cercando perché il termine meno uno fratto fi alla 30 è trascurabile quindi non incide nel calcolo che stiamo facendo e quindi avendo a disposizione una calcolatrice per calcolare F30 basta fare fi alla 30 fratto radice di 5 e quindi abbiamo direttamente il valore che stavamo cercando senza fare tutto il conteggio di cui parlavo prima calcolare i due precedenti e quindi arriviamo ai giorni nostri e ripasso la parola bene diciamo che fino ad ora nel nostro percorso diciamo siamo passati dall'antica Grecia diciamo dei Pitagorici siamo passati per l'Italia del 200 e siamo arrivati poi alla formula di Binet quindi a un matematico francese dell'800 quindi abbiamo un po' visto proprio la trama dei numeri di Fibonacci e adesso ci chiediamo possiamo trovare qualcosa di interessante su questi numeri anche oggi quindi giorni nostri beh ci sono due applicazioni che abbiamo un po' esaminato che ci piacerebbe farvi vedere che sono l'applicazione dei frattali che è un settore della ricerca matematica ancora oggi diciamo in espansione poi la teoria delle onde di Elliot che è una teoria relativa ai mercati finanziari quindi qualcosa di molto lontano ecco da da quello di cui stiamo parlando ecco che sono poi proprietà di numeri di Fibonacci e parliamo appunto prima dei frattali ecco che cosa sono i frattali ecco vedete alcune figure nelle slide portate sono delle figure geometriche caratterizzate da ripetersi fino all'infinito di uno stesso motivo su scala sempre più ridotta quindi se per esempio prendete l'insieme di Maldelbrot che se tornate appunto alla slide prima ecco è il nostro è quello che vedete in figura se vedete appunto la figura e provate appunto a ingrandirla sempre di più otteniamo una copia dell'intera dell'intera figura diciamo questa diciamo è la definizione più intuitiva che si possa dare di queste di queste figure ci sono alcune proprietà che caratterizzano ogni frattale per esempio appunto l'autosomiglianza cioè comunque voi ingrandiate queste figure otterrete sempre una copia dell'intera figura e quindi diciamo un frattale sempre autosimile cioè contiene infinite copie di se stesso tutti questi insiemi hanno poi una struttura fine perché se ingrandite sempre di più l'immagine ottenete sempre più particolari quindi sempre più particolari e poi sono irregolari perché non sono curve del tipo non sono per esempio come una circonferenza non si possono scrivere come x quadro più y quadro uguale a uno per esempio ma sono ottenute applicando più volte appunto una funzione f in modo ricorsivo quindi applicandolo veramente per molte volte infinite volte diciamo beh ci possiamo chiedere che cosa centri phi la sezione aurea vedete il titolo con i frattali beh se ci ripensate le figure che abbiamo ottenuto all'inizio appunto del nostro del nostro discorso possono essere considerate come dei frattali perché sono successioni di figure una iscritta dentro l'altra e una simile all'altra quindi quando prendete un qualunque ingrandimento della figura riotterrete sempre la stessa figura e diciamo che il fatto che phi genere questo tipo di figure si può si può anche spiegare giustificare osservando che phi è esso stesso autosomigliante cioè contiene copie infinite di se stesso in che senso? beh ricordiamo che phi soddisfa all'equazione appunto uno più uno fratto uno fratto phi e vedete che appunto phi compare al denominatore di quella frazione se adesso proviamo a sostituire la relazione uno al denominatore quindi alla phi che compare al denominatore riterete una frazione un po' più lunga della precedente vedete abbiamo sostituito al denominatore la relazione uno vedete che ricompare di nuovo phi al denominatore della frazione uno fratto phi se provate di nuovo a sostituire la relazione uno avremo una frazione ancora più lunga continuate con questo procedimento per quanto volete quindi possiamo ripetere il procedimento visto più volte insomma quello che si conclude è che phi si può vedere come il limite di queste frazioni e vedete che diciamo in questa rappresentazione cioè si dice in termini matematici in questa rappresentazione di frazione continua phi contiene infinite copie di se stesso infatti provate a prendere una qualunque parte di questa frazione e vedete che qualunque parte della frazione è identica all'intera frazione cioè appunto phi si comporta come un frattale e diciamo se riguardate meglio l'equazione della sezione aurea quindi la scrivete come phi quadro uguale a phi più uno e ricavate la radice quindi scrivete phi come radice di uno più phi e poi sostituite di nuovo ricorsivamente questa relazione a phi riottenete di nuovo un'espressione che si può dire autosomigliante cioè vedete un annidamento diciamo di radici di radicali e se provate a prendere qualunque parte di questa frazione questa parte sarà identica a tutta l'intera sequenza di radici e quindi ecco spiegato il perché di questo diciamo di queste del fatto che phi generi successioni di figure che si che si somigliano ecco e quindi la sezione aurea è si comporta come un frattale e genera anche frattali del resto la spirale che abbiamo visto prima la spirale di fibonacci lucas è un'approssimazione della diciamo della più nota spirale logarittmica in particolare la spirale logarittmica aurea cioè vedete appunto vedete in figura che abbiamo sovrapposto la spirale quella diciamo vera logarittmica disegnata appunto in rosso c'è poi la spirale verde che è quella di fibonacci e vedete la parte gialla è la sovrapposizione sono quasi identiche ecco e questa era la cosiddetta spira mirabilis così come la chiamava appunto Bernulli perché appunto come si dice risorge e nasce appunto identica cioè qualunque ingrandimento di questa di questa spirale risulterà sempre uguale alla immagine più grande e quindi anche la spirale stessa è un frattale quindi un'ulteriore prova di quello di cui parlavamo e c'è un'altra applicazione diciamo relativa al mondo dei frattali se pensate ad un albero un albero è un esempio di frattale perché approssimativamente ogni ramo è simile all'intero albero e ogni rametto a sua volta è simile al ramo precedente e così via se diciamo proviamo a rappresentarlo in modo semplificato potremmo partire da un fusto diciamo di lunghezza A per esempio di lunghezza 1 e possiamo pensare di forcare questo primo fusto in due rami che abbiano lunghezza diciamo una lunghezza rimpicciolita quindi per esempio una lunghezza K per A e possiamo pensare che questi due rami formino tra loro un angolo di 120 gradi possiamo ripetere questo procedimento per ogni per ogni rametto quindi vedete il ramo di sinistra di uno si divide in altri due rami sempre più piccoli e sempre formanti un angolo di 120 gradi e lo stesso anche per l'altro ramo ripetete questo procedimento indefinitamente e ottenete un'approssimazione diciamo di un albero vero ecco ovviamente molto stilizzato beh che cosa c'entra qui la sezione aurea possiamo porci una domanda su questo albero qual è diciamo il massimo fattore di riduzione K che rende l'albero il più frondoso possibile però senza che le foglie si sovrappongano beh pensiamo supponiamo che appunto il fusto abbia lunghezza 1 allora per ottenere appunto un K massimo che renda l'albero senza sovrapposizione delle foglie cosa deve succedere succedere che il cateto K per coseno di 30 che appunto vedete vedete in figura deve essere uguale alla somma dei cateti di tutti quei piccoli rametti che vedete più più in sopra dove c'è scritto K alla terza K alla quarta e così via cioè lo possiamo scrivere come la relazione che vedete come K per coseno di 30 uguale alla somma di cui K alla terza per coseno di 30 e così via se adesso semplificate i coseni diciamo e il K e diciamo moltiplicate per 1 meno K riottenete un'equazione che somiglia molto a quella della sezione aurea cioè è un K quadro più K meno 1 uguale a 0 nell'equazione della sezione aurea si avrebbe un K quadro meno K quindi è un po' diversa però anche la soluzione di questa di questa equazione è legata alla sezione aurea ed in particolare è di nuovo il reciproco della sezione aurea quindi il numero che inizia con le cifre 0,6 1 8 e così via quindi questo problema diciamo di ottimizzazione della disposizione delle foglie si risolve con la sezione aurea vediamo l'altra applicazione quella di cui parlavamo prima che è appunto l'applicazione dei numeri di Fibonacci al mondo dei mercati finanziari in particolare la teoria delle onde in particolare questa teoria viene formulata da Elliot in un periodo molto simile a quello in cui stiamo vivendo quello della crisi del 29 e analizzando vari dati dei mercati degli anni precedenti elaborò una teoria per prevedere l'andamento dei mercati che è appunto la teoria che passa col nome di teoria delle onde è una teoria in realtà che così diciamo spiegata in modo può essere spiegata in modo semplice perché secondo Elliot diciamo nell'andamento del prezzo di una certa merce di un certo titolo una impennata di un aumento improvviso dei prezzi era sempre seguito da una diminuzione correttiva diciamo che viene detto ritracciamento dell'impennata iniziale e lo vedete bene in figura nella figura abbiamo una fase diciamo ascendente vedete quella circondata dal riquadro in cui c'è un trend diciamo verso un aumento dei prezzi e quella successiva in cui c'è invece una riduzione dei prezzi e se guardate però questo andamento a sua volta si suddivide in tanti piccoli diciamo zig zag ecco questi zig zag con un termine un po' rigoroso vengono detti onde in particolare onde di impulso per esempio nel caso del segmento 1, 3 e 5 sono quelle onde che seguono diciamo la tendenza al rialzo dei prezzi mentre invece ci sono le altre appunto le altre onde quelle di correzione che sono quelle le due l'onda 2 e l'onda 4 che invece correggono un po' l'aumento dei prezzi viceversa le parti si invertono nella seconda parte le onde di impulso sono quelle indicate con il numero 5A e la lettera BC mentre quelle di correzione sono appunto l'onda AB ora se provate a contare tutte le onde le onde di impulso tra la fase la prima fase quella ascendente la seconda quella di ribasso ottenete 5 onde di impulso se contate quelle correttive ne abbiamo 3 la somma da 8 fin qui potrebbe essere una pura coincidenza però la teoria di diciamo di Elliot non si ferma qui perché a questo punto Elliot dice ogni onda che abbiamo appunto considerato si divide in altre onde intermedie che ripetono appunto lo schema che abbiamo già visto cioè vedete appunto nella figura ogni onda diciamo viene sovrapposta da altre onde intermedie e a questo punto se proviamo a contare le onde intermedie di impulso otteniamo 21 onde se invece contiamo quelle correttive sono 13 e quindi di nuovo abbiamo dei numeri di Fibonacci e infine se dividiamo ancora queste onde in altre onde ancora più piccole otteniamo 89 onde di impulso 55 di correzione e infine 89 più 55 144 onde in totale e quindi questo è una bella applicazione perché effettivamente questi numeri vengono usati o sono stati usati diciamo nel passato adesso non so se ci sono teorie più avanzate però veramente quando viene scoperta questa fu una vera novità e non è l'unico legame con i numeri di Fibonacci se considerate il ritracciamento cioè appunto come dicevamo prima la diminuzione correttiva dei prezzi che segue ad un'impennata iniziale questa è quasi sempre una percentuale di Fibonacci cioè quasi sempre corrisponde ad uno di quei tre numeri che vedete appunto che vedete gli scritti uno è 61,8 che appunto sarebbe appunto scritto non in percentuale 0,618 che approssima il reciproco di FI e quindi si può scrivere come limite dei numeri Fibonacci consecutivi e gli altri sono sempre legati alla sezione Aura e le altre percentuali come uno fratto FI quadro uno fratto FI alla terza e così via l'ultima osservazione è che un andamento vedete una figura di questo tipo con tutte le onde sovrapposte può essere un esempio di frattale perché potete continuare a spezzare le onde nello stesso modo e comunque ingrandiate quella figura avrete sempre lo stesso motivo a ripetersi e questa diciamo era l'ultima applicazione che volevamo fare vedere e adesso c'è una parte così conclusiva di curiosità che si si sto qua se la presento un po' conclude Elena allora si è molto proprio di curiosità le cose più diciamo più caratteri più conosciute dalle persone comuni ecco un po' di una rassegna ecco esatto una rassegna allora le spirali logaritmiche in natura una parte ok questo è un un esempio di frattale è un cavolo è un esempio di esatto di frattale perché e poi abbiamo messo in luce la spirale l'ho ripreso qua quindi qua con le spirali che si possono tracciare ci ricordano quelle che abbiamo visto prima non so se si vede il pentagono poi nelle pigne di nuovo le spirali che si possono identificare nella frutta sulla buccia dell'ananas per esempio sono presenti delle spirali nei semi dei girassoli allora si qua ho riportato un'informazione il girasole presenta molti numeri di spirali diversi e il numero delle spirali è un numero di fibonacci e fra tutte le piante che presentano una filotassi spirale dove la filotassi è la disposizione delle foglie circa il 92% ha una filotassi di fibonacci e questa disposizione costituisce un impaccamento ottimale dei semi del girasole noi percepiamo come vediamo appunto le spirali è un altro problema di ottimizzazione come quello delle disposizioni delle foglie nell'albero aureo che è sempre risolto dalla sezione aurea e quindi dai numeri di fibonacci quindi una cosa interessante quindi le conchiglie questa è la spirale che abbiamo visto prima la spirale logaritmica e questo è il nautilus che è un un esemplare realmente esistente non mentiamo poi i petali nei fiori abbiamo riportato una rassegna di alcuni fiori fino a 34 petali con le margherite poi questa curiosità cosa c'è di divino nella sezione aurea allora abbiamo trovato e allora la sezione aurea è stata chiamata per la prima volta proporzione divina nell'età rinascimentale e abbiamo trovato tre motivi per cui può essere effettivamente definita la proporzione divina allora il rapporto aureo chiama in causa tre grandezze come la trinità di dio ricordo che le grandezze sono tre perché sono appunto i tre segmenti che abbiamo visto all'inizio il segmento a il segmento b e la somma dei due segmenti quindi si è un legame che ricorda un po' la trinità di dio ecco questo è quello che dicono i convinti sostenitori del divino della sezione aurea e poi si può dire che il rapporto aureo numero irrazionale richiama l'impossibilità della ragione umana ad arrivare a comprendere dio e poi c'è l'autosimilarità del rapporto aureo cioè nel senso che è indipendente dalla lunghezza del segmento da partenza di partenza da dividere e quindi ricorda l'onnipresenza di dio esatto quello che abbiamo visto prima e infine il rapporto aureo può essere considerato come il generatore dei solidi platonici così come lo spirito santo può essere considerato come il generatore dell'anima dell'uomo questa è una parentesi religiosa però insomma la sezione aurea nell'arte vediamo il partenone ecco quindi potete vedere che la sezione dei rettangoli aurei poi sì abbiamo riportato qualche così qualche l'uomo vitruviano e l'ultima cena la gioconda ah e qua di fianco per c'è la citazione all'inizio vi ho fatto vedere l'immagine quella del codice da Vinci e c'è proprio un intero paragrafo nel libro dedicato alla sezione aurea e c'è una bella citazione che dice come diciamo noi matematici il fi è un h più interessante del pi riferendosi alla differenza tra fi e pi greco ecco diciamo che si scrive in modo molto simile ma in realtà sono due lettere diverse dell'alfabeto greco e sì ancora sempre tutti i rettangoli aurei i rettangoli aurei qua il rapporto questo è il modulor di le corbusier e il rapporto tra l'altezza dell'uomo e l'altezza dell'ombelico è la sezione aurea e la prima invece è la venere del botticelli poi questa è un'altra curiosità abbiamo parlato di divino parliamo anche dell'altro modo in cui dell'equazione del diavolo cioè almeno quella che viene chiamata così osserviamo le seguenti relazioni perché si chiama così se andiamo a fare questo calcolo usando i numeri di Fibonacci di Fibonacci otteniamo 666 se andiamo a sommare invece gli indici cioè i pedici dei numeri di Fibonacci troviamo 6 più 6 più 6 poi quindi questa è la somma sugli indici se andiamo a sommare invece i cubi dei primi 6 numeri di Fibonacci si togliendo il terzo si ottiene sempre 666 e di nuovo andando a sommare gli indici 6 più 6 più 6 quindi 666 è la sezione aurea allora meno 2 per il seno di 666 gradi dà questo valore che ci ricorda molto il valore della Fibonacci che è circa abbiamo detto 1,618 eccetera quindi esatto nel 1994 Steve questo Steve Wang ha pubblicato questa equazione che stiamo per mostrarvi sotto il segno del diavolo che è la seguente quindi insomma lega il 6 il 6 il 6 il 666 alla sezione aurea molto inquietante si è proprio una curiosità ok poi guardiamo due applicazioni su proprio sul conteggio sempre dei cammini riflessioni di un raggio di luce disponiamo due lastre di vetro faccia a faccia e proviamo a contare le possibili riflessioni di un raggio di luce quindi è molto schematico ci sono le due lastre di vetro quello in giallo e il raggio di luce e abbiamo provato a contare le riflessioni i possibili percorsi ripercorrono i numeri di Fibonacci guardiamo allora nessuna riflessione il raggio di luce attraversa le lastre di vetro una riflessione due riflessioni perché rimbalza due volte infine tre riflessioni e osserviamo che i numeri delle possibili diciamo corrispondenti alle configurazioni sono proprio i numeri di Fibonacci 1,2,3,5 e poi abbiamo riportato l'ultima quindi quella con quattro riflessioni ci sono otto possibili percorsi e infine la strada delle api allora immaginiamo di avere un alveare con le celle disposte in questo modo e contiamo i modi possibili in cui un'ape può raggiungere le celle di questo alveare proseguendo solo per celle contigue otterremo di nuovo i numeri di Fibonacci quindi abbiamo fatto qualche percorso c'è l'ape con l'alveare allora c'è un possibile percorso per arrivare alla cella 1 oppure abbiamo questo per arrivare alla cella 2 possiamo fare così oppure possiamo andare nella cella 1 e poi raggiungere la cella 2 e quindi obiettivo cella 2 numero di passi 2 e poi proviamo a vedere per arrivare alla cella 3 quindi possiamo fare il percorso 1 2 3 e tornare indietro oppure possiamo fare il percorso 2 3 e tornare indietro oppure possiamo fare il percorso 1 3 e poi tornare indietro quindi otteniamo numero di passi 3 ok guardiamo l'ultimo abbiamo sempre l'alveare raggiungiamo la cella 4 quindi passando dalla 2 oppure possiamo fare il percorso 1 2 3 4 e ritornare indietro oppure possiamo fare il percorso 1 3 4 e ritornare indietro oppure possiamo fare il percorso 2 3 4 e ritornare indietro oppure possiamo fare il percorso 2 1 3 4 che era quello più scomodo tornare indietro e otteniamo che ci sono 5 possibili passi per arrivare alla cella 4 esatto abbiamo concluso ecco è finita vorremmo insomma appunto abbiamo messo una citazione di William Blake di questo poeta che insomma c'entra forse poco col mondo della matematica però ricorda un po' con questa poesia il senso della spirale logaritmica cioè possedere l'infinito sul palmo della mano provate ad andare avanti con la spirale fino all'origine e otterrete di nuovo una spirale che si avvolge e vi lasciamo qualche testo e sito utile abbiamo usato questi testi il primo contiene un panorama un po' delle proprietà di numeri di Fibonacci molto interessanti il secondo ci sono alcune delle dimostrazioni che vi abbiamo fatto vedere con i ricoprimenti di quadrati e rettangoli e poi c'è qualche sito tra cui quello del giornale dei Fibonacci Quarterly che è proprio il giornale pubblicato dall'associazione di Fibonacci che diciamo pubblica delle curiosità dei nuovi risultati sui numeri su questi numeri che hanno affascinato e continuano a affascinare tanti insomma di noi matematici vi ringraziamo dell'attenzione ringrazio 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 ringraziamo ancora Elena Simone l'audio intervista sulla prossima conferenza la trovate sul blog se volete sentirla e sulle cellule staminali buonanotte a tutti spero di rivedervi il prossimo mercoledì grazie a tutti grazie a tutti